quella di questa mattina per francesco un operatore ittico della nostra città con un banco di rivendita nella centralissima piazza costa assieme alla moglie conosciuto come chicco erita sembrava essere una delle tante mattine di duro lavoro nel cuore della notte fatto di acquisti e preparazione delle cassette di pesce nel mercato ittico di viale adriatico non sapeva che in realtà la sua nottata avrebbe avuto risvolti da cronaca nera perché qualcuno stava tramando letteralmente nell'ombra un colpaccio mentre il nostro pescatore verso le due della notte scorsa stava ordinando nel suo magazzino il pesce accanto alla porta del suo deposito letteralmente a due metri c'era parcheggiato il suo furgone in quel mentre il ladro appostato nei paraggi e ad al buio si è introdotto dal cancello semi aperto dentro il magazzino ed approfittando con sangue freddo e determinazione ed anche una buona dose di incoscienza del momento buono ha aperto il furgone e rovistato in pochissimi attimi in ogni parte della cabina forse alla ricerca del portafoglio o di soldi incontanti ma istinto sesto senso non si sa che cosa hanno fatto sì che chicco come tutti lo chiamano abbia capito che doveva uscire fuori che qualcosa non quadrava ed infatti ha beccato il ladro con le mani nel sacco attimi concitati qualche spinta ed una fuga precipitosa del malvivente e le urla e le grida di chicco che attirava l'attenzione dei suoi colleghi sì perché alle due di notte il magazzino di via lederatico è in pieno lavoro ma il ladro ha messo le ali ai piedi e quindi niente da fare per i pescatori fanesi è svanito nel nulla ma fortunatamente dal furgone non è sparito niente dopo pochissimo però sono arrivati anche i carabinieri ma la lepre ormai era fuggita e fin qui quasi tutto come da cupione un tentato furto alle due di notte in un mezzo parcheggiato ma e qui viene il bello il malintenzionato era arrivato in bici una bici elettrica che aveva parcheggiato a una decina di metri dal furgone per assicurarsi una fuga veloce bici elettrica che è rimasta lì ora chicco ci terrebbe a restituirla al suo legittimo proprietario nel caso che il ladro l'avesse rubata poco prima di fare il furto pertanto chi riconoscesse dalle immagini la bici può farsi avanti e chicco sarà ben lieto di restituirgliela a patto che riconosca un dato particolare che solo lui sa e che gli servirà per capire se chi ha davanti è o no il legittimo proprietario a meno che vista la sfrontatezza con cui ha operato non si presenti il ladro stesso per riavere la sua bici ma di questo ne dubitiamo fortemente